A te augurerei ben altro, ma non sono brava coi biscotti della fortuna. Ho pensato che fosse una buona idea sederci qui a parlarne insieme, da veri adulti. Che cosa vuoi? Quello che ho sempre voluto, Stick. Portare luce nell'oscurità. Portare vita dove c'è morte. Lei parla tanto di vita, però ammazza molte persone. Luke Cage, Jessica Jones e anche il diavolo di Hell's Kitchen, l'Iron Fist. Vedo che è stretto una sorta di patto qui. La devo avvisare che è solo temporaneo. La deluderanno tutti. E se posso darle un buon consiglio... sappia che più legami ha... e più sarà facile spezzarla. Deve pensarci molto bene. New York è così densamente popolata. L'unico modo è uscirne insieme. È solo una città. Ti abituerai a vederle crollare. Danny, accendilo. Andiamo, Ironclad. Sono Ironfist. Lo so.